...e un po' se li... Le uova! Le uova! Che bello guarda! Guarda il sistema! Guarda! Guarda! Il maschio sotto sta cambiando! Vedete che arriva con l'altro rambo! Quindi potrò seguire a breve che li vediamo i piccoli! Guarda, guarda! Guarda sotto il maschietto con l'altro rambo! Questo qua, qua sotto! Esatto, vedi? C'è il rambo in bocca! Sì, sale! Poi passa all'altro! Sì, non lo stai presente! Ah, ecco! Un po' grandina, si incastra! Ma che sta coando adesso? Sì! Eh, le uova non si vedono più! Più clicci sulle uova, giusto? Sì! No! No! Che dolce! Questa scende a prendersi un altro rambo! Guarda ancora le sobra che sta finendo di sistemare! Il rambo è un po' grossino! Sì! Non riesce a prenderlo! Non riesce a prenderlo! Però quando mi piace non fa cadere! Ah, deve provare il sistema per incastrarlo! Per incastrarlo! Ah! L'ho trovato! Non riesce a prenderlo! E poi c'è la scida! Sì, è vero. naturalmente pure sopra c'è il mio con le uova, non riusciamo a vederlo sei rialzata a quello che stavo colando? dov'è? bravette vedi qua, vediamo meglio dov'è? si, sono due tre, sono tre sono tre, si le vedo le ha spostate ora si vede, ora si mette, guarda oh, che bello ciao aspettemi piccoli